Ti ricordi quando io sono entrata, ho specificato che cosa cerco in un ballerino prima di tutto? Carisma Interpretazione, espressività, sentimento, emozioni Questo per me è il primissimo posto L'errore tecnico, i piedi, le gambe iperestese Sì, la tecnica è importante, certo Ma ripeto, una sbavatura tecnica, se mi fai piangere, ridere, venire i brividi, emozionare Non mi interessa, cioè tengo gli occhi incollati due ore Ti devi sporcare un po' di più, ti devi spettinare, devi lasciarti andare Ok, voglio che tu lavori più sull'espressività e sulle emozioni E nei tuoi occhi voglio leggere la stessa emozione che ho visto poco fa